Buongiorno a tutti, grazie per questo invito, grazie al Cardinale Matteo, grazie a tutti voi. In pochi minuti provo ad esprimere il senso del testo dei Cantieri di Betania, questa esperienza che ci attende nel secondo anno di ascolto sinodale. Sottolineo di ascolto perché non è ancora il tempo di formulare proposte, risposte precise, piani pastorali definiti. Il Papa ci ha chiesto di non avere fretta nell'ascoltare, anzi di indugiare nell'ascolto ed è proprio in questa chiave che si è proposto di passare dai gruppi sinodali basati sul metodo della conversazione spirituale che resteranno, anzi dovranno essere lo stile dei nostri incontri, ascolto della parola di Dio, ascolto reciproco, di passare anche ad un'altra esperienza che dovrebbe essere maggiormente appetibile per persone che nel primo anno non sono state coinvolte per vari motivi, c'è stata anche una riattivazione della pandemia, c'è la comprensibile fatica di partire, ma adesso noi siamo partiti, abbiamo un'esperienza che si è dimostrata positiva, ha coinvolto circa 50.000 gruppi nel nostro paese, ci sono tante persone che continuano ad essere disponibili. Perché i cantieri di Betania? Cantieri perché appunto si vorrebbe passare da una metodologia che è di semplice confronto e ascolto a una metodologia più creativa che comporta vari linguaggi, che si rivolge ascoltando a diversi mondi, pensiamo in particolare a quei mondi che non sono stati così coinvolti come quello dei giovani, i tanti mondi dell'emarginazione, della povertà, pensiamo anche ai mondi delle professioni, ci sono esperienze positive in merito che possano costituire uno stimolo per i cantieri, sono in via di pubblicazione nel sito del cammino nazionale. I mondi delle professioni intendo i medici e gli infermieri, intendo i giuristi, intendo gli imprenditori, i mondi dello sport, dello spettacolo, dell'arte e qui si potrebbero moltiplicare gli esempi. Nel testo che è stato pubblicato ce ne sono alcuni. Bisogna però, questa è la condizione, non avere la fretta di dire, ma piuttosto creare degli spazi di ascolto, delle esperienze nelle quali queste persone si possano davvero presentare, esprimere, magari anche domandare, ma entrare in relazione con i mondi più legati alla Chiesa. Cantieri di Betania. Lo scorso anno è emersa proprio la casa di Betania, in particolare attraverso l'episodio di Marte e Maria, che vi è stato incisivamente commentato pochi mesi fa da Don Maurizio Marcheselli, come una sorta di icona della Chiesa che vorremmo, la Chiesa come casa di Betania. Casa non nido, perché l'episodio comincia con Gesù che cammina, seguito dai discepoli a delle discepole, ed entra in un villaggio. Gesù non ha paura della strada, per questo il primo cantiere è chiamato della strada e del villaggio, proprio per poterci mettere in uno stato d'animo e darci la strumentazione per aprirci ai tanti villaggi che spesso non riusciamo a intercettare, forse perché non diamo abbastanza la parola. Poi Gesù entra in una casa, che è quella di Marta, Maria e Lazzaro, la casa di Betania. Una priorità emersa nel primo anno, direi la priorità è quella delle relazioni. In tutti i modi è stato detto che o le nostre comunità recuperano il primato della relazione sull'organizzazione, dell'incontro sulla burocrazia, oppure diventano uffici, uffici anagrafe ecclesiastica o magari stazioni di servizio sacramentale, come si diceva un tempo, mentre devono essere case, cioè non si può chiudere la porta d'ingresso. Certo non si può avallare tutto, legittimare tutto, lo sappiamo bene, ma si può accompagnare qualsiasi situazione, anzi come chiesa dobbiamo dire si deve accompagnare qualsiasi situazione. Il cantiere delle case, il cantiere delle relazioni, sottolinea proprio questo, inventare o ispirarsi ad altre chiese, comunque inventare esperienze di incontro, di relazione, di prossimità. E infine il cantiere delle diaconie e della formazione, perché un'altra richiesta molto diffusa è quella di percorsi di formazione accessibili, concretamente accessibili a tante persone che sono disponibili a svolgere dei servizi nelle nostre comunità e grazie a Dio ne abbiamo davvero molte, ma che sentono il bisogno di connettere il fare all'ascoltare, Marta a Maria, per evitare che i tanti servizi diventino sorgente di affanno, di malumore, di critiche, riconnettere la diaconia all'ascolto. E anche qui ci sono idee, esperienze che vengono fatte circolare e che saranno a disposizione proprio nei prossimi giorni. È semplicemente un invito ad avere fiducia, a non scoraggiarci, a non premettere lo scetticismo, a coinvolgerci come e più di quanto abbiamo fatto nel primo anno. Grazie ancora e buon lavoro a tutti!